Vedere un film muto per lo spettatore contemporaneo non è certamente una cosa semplice, c'è bisogno di codificare quello che è un linguaggio a noi molto lontano. Per questo motivo vi vorrei introdurre alla visione di un film importante del cinema muto italiano che si intitola Cenere, diretto nel 1916 da Febbo Mari e interpretato da una delle più grandi attrici teatrale italiane ovvero Eleonora Duse. Prima di parlarvi del film bisogna capire chi è Eleonora Duse, classe 1858 definita come una delle più grandi attrici teatrali del mondo. Per lei viene cognato il termine divina e inizia a calcare il palcoscenico pensata all'età di 4 anni. Negli anni 70 e 80 dell'ottocento diventa una delle più grandi interprete del teatro dell'epoca, recita nei più importanti palcoscenici italiani e del mondo. Porta delle vere e proprie innovazioni nel mondo del teatro, ad esempio porta delle novità nel modo di recitare. Fino ad allora, siamo negli anni 70 e 80 dell'ottocento, gli attori recitavano con un tono di voce molto alto e molto impostato. Invece lei si adegua al personaggio che deve interpretare e modula la voce. Poi in scena fa anche molti silenzi, delle pause e sono celebri le sue scene in cui piange in maniera ininterrotta, aggrappata alle tende del sipario. Amalia le platee non solo italiane ma anche di tutto il mondo e recita in vari teatri sempre in lingua italiana. È un personaggio importantissimo nella cultura del suo tempo e diventa anche l'amante di personaggi molto famosi come Arrigo Boito o lo scrittore Gabriele D'Annunzio. Nel 1909 abbandona momentaneamente il teatro e ritornerà sul palcoscenico soltanto nel 1921 con un grande trionfo di pubblico e critica con l'opera di Isben La Donna del Mare. In questo periodo si diffonde naturalmente in Italia una nuova arte che è quella del cinematografo. Si racconta che Eleonora Duse andasse nei cinema di periferia a vedere questa nuova forma d'arte. Non era molto interessata a quelli che erano i colossal dell'epoca come ad esempio Cabiria o i drammi mondani interpretati da Francesca Bertini e Lida Vorelli che riproponevano sullo schermo dei personaggi che la Duse aveva interpretato a teatro. Rimane però affascinata da un film diretto da Giovanni Pastrone con lo pseudonimo di Pietro Fosco che si intitola Il Fuoco del 1915. Tra l'altro Il Fuoco era il titolo di un'importante opera che Gabriele D'Annunzio aveva proprio dedicato a Deleonora Duse e vedendo questo film rimane molto colpita. Decide così di provare la strada con però qualche titubanza del cinematografo. Le riviste specializzate dell'epoca nel 1916 parlano di tre case di produzione ovvero la Cines di Roma, l'Itala e l'Ambrosio Film entrambe di Torino che si contendono il ritorno sulle scene di Eleonora Duse. La casa di produzione che vince questa competizione è l'Ambrosio di Torino e nei mesi che precedono l'estate del 1916 Eleonora Duse firma un contratto importantissimo per un primo film di prova, il 50% degli incassi che appunto vengono dati direttamente all'attrice e la piena libertà, sempre di Eleonora Duse, sulla scelta dell'operatore e su come fare il film, che è una libertà che nessuna diva dell'epoca, nemmeno Francesca Bertini e Lida Vorelli, avevano appunto sulla produzione di un film. Addirittura l'Ambrosio Film le lascia un operatore mentre soggiorna in villeggiatura a Viareggio per fare delle prove, si dice un'ora al giorno, per provare appunto a recitare davanti alla macchina da presa. Naturalmente Eleonora Duse che aveva tutto un repertorio recitativo appunto teatrale si deve adeguare a quella che è questa nuova forma d'arte silenziosa. La scelta del soggetto ricade su un romanzo di Grazia dell'Eda che si intitola Cenere e come operatore sceglie l'attore e regista Febo Mari che aveva molto apprezzato nel film Il Fuoco e erroneamente credeva fosse anche il regista del film. Infatti Il Fuoco è diretto da Giovanni Pastrone con lo pseudonimo di Pietro Fosco e per quello sceglie per questo motivo creando un vero e proprio equivoco, essendo lei non molto avezza al mondo del cinematografo. Il film viene girato negli stabilimenti dell'Ambrosio Film di Turino e le scene in esterne, siccome erano abbastanza costose, non vengono girate in Sardegna ma nelle zone di Ala di Stura. Il film è pronto per il mese di settembre del 1916, c'è molta aspettativa anche nel pubblico, nelle riviste dell'epoca per il ritorno sulle scene della Divina Duse, ma anche dal punto di vista pubblicitario tutto è abbastanza minimale nel senso che anche le locandine dell'epoca non riportano foto di scena del film ma vengono presentati di semplici manifesti tipografici. La pellicola esce nel mese di marzo del 1917. Il pubblico fa fatica a riconoscere l'attrice Eleonora Duse che appare veramente molto invecchiata in questa pellicola e anche la critica non apprezza molto il film. Il pubblico era abituato più al cinema colossal, quello storico, oppure ai drammi mondani e non gradisce molto questa storia che parla di una donna costretta ad abbandonare il figlio illegittimo e molti anni dopo questo figlio, grazie all'aiuto di sua moglie, ritrova la vecchia madre. Eleonora Duse rimane molto delusa dall'insuccesso del film. Lei aveva curato la pellicola nei minimi dettagli e aveva cercato anche di farne un'opera d'arte totale in grado di mescolare assieme la letteratura, la recitazione e anche l'arte pittorica. La recitazione della protagonista è molto minimalista, è una recitazione quasi timida, ha quasi difficoltà a stare davanti alla macchina da presa. Viene fatto un lavoro molto interessante anche di riduzione, diciamo così, pittorica sullo schermo. Infatti molte pose che troviamo dell'attrice all'interno del film sono ispirate dalla pittura trecentesca di Giotto che ritroviamo nella Cappella degli Scrovegni di Padova e nella Basilica di Assisi. Viene fatto un sapiente uso anche delle luci e delle ombre, basta vedere la sequenza in cui la madre abbandona, diciamo così, il figlio e poi ci sono anche dei sottintesi ideologici. Il finale del film è un finale quasi capovolto che è un tributo a tutte quelle madri, siamo pensate nel bel mezzo della prima guerra mondiale, che aspettano appunto il figlio dal fronte, un figlio che molto probabilmente non ritornerà più. E proprio il figlio cinematografico di Eleonora Duse è Febo Mari. Febo Mari era stato un importante attore teatrale, prima di essere attore era stato un critico teatrale e a soltanto 27 anni diventa il direttore del teatro milanese Manzoni. Passa il cinematografo grazie all'Italafilm ed è l'interprete principale del famoso dittico diretto da Giovanni Pastrone, Il fuoco e Tigre reale, dove recita accanto a Pina Menichelli. Sono due film interessantissimi che rappresentano in maniera molto intensa e significativa quello che era il clima culturale dell'epoca del decadentismo. Debutta la regia nel 1915 dirigendo un importante attore teatrale che era Ermete Zacconi nel film L'Emigrante e alternerà la sua carriera alla appunto quella di regista e di attore appunto cinematografico fino alla prematura morte nel 1938. Grazie all'insuccesso di questo film Eleonora Duse abbandona il mondo del cinema che non l'aveva mai convinta appieno. Era stato messo in cantiere anche una seconda pellicola che non verrà però mai realizzata. Ci ha lasciato però un grandissimo e prezioso documento che testimonia quella che era la sua grande arte attoriale. Per rimanere informato sugli ultimi caricamenti del canale i classici del cinema italiano ricordati di iscriverti e di attivare le notifiche così non ti perderai più i film in premier e i nuovi video di cinema italiano in pillole. Grazie e buona visione!